Io ringrazio Neko TV per questa opportunità, è stato possibile partecipare a questa stupenda iniziativa del Cavacon qui alla Mediateca Marte dove abbiamo presentato il nostro cortometraggio che è Smokers. Smokers è un cortometraggio che parla di una generazione, una generazione di giovani dell'età che va dai 20 ai 30 anni che si trovano praticamente a incontrare una società difficile per loro. Parla di Sergio che è un neolaureato in statistica che è alla ricerca di lavoro. Il tutto viene narrato attraverso dei termini statistici che compaiono sullo schermo durante il cortometraggio. Smokers non è soltanto un cortometraggio, è una puntata pilota in quanto abbiamo preparato la produzione di altre 10 puntate. Sarà una web series che apparirà sul nostro canale YouTube che è youtube.com smokandosempre dove riuscirete a vedere nei prossimi mesi tutte le avventure di Sergio alla ricerca del lavoro. Sergio sarà un novello Dante che incontrerà 10 fumatori nei vari gironi per l'appunto danteschi o sergeschi se mi consenti, dove praticamente arriverà come punto finale al lavoro appunto tanto desiderato. Al prossimo episodio